E quanto è l'Europa che è governata l'Europa? Il Parlamento non governa assolutamente l'Europa, la gente crede che sia come l'Europa, non è mai la legge che governa l'Europa. L'Europa è governata da commissioni, le quali commissioni sono formate per metà dai rappresentanti delle grandi industrie del settore. A metà, immaginate, a metà significa tutto, perché se già ci sono con le lobby, la metà significa tutto. Io sono stato invitato una volta a una commissione che doveva valutare le cose, le misure di sicurezza, una commissione che non contava nulla, solo a etica, consultiva, e mi hanno detto, mi hanno spiegato che quelli che decidono le misure di sicurezza, per esempio quelle che quando siamo entrati qui, queste sono fatte dalle grandi industrie di armi, le quali industrie di armi si sono convertite a fare questo grande business che oggi è in Europa, le misure di sicurezza. L'Europa è però governata così, quindi anche poi se noterete in futuro che per esempio il livello non potrete più sapere da dove vengono i cibi che voi comprate, perché appunto queste commissioni hanno deciso che non si deve più mettere d'ora in poi da dove proviene il cibo, dove mangiate, eccetera, eccetera, perché appunto sono formate per metà nella grande industria. Grazie.